concernente iniziative volte all'incremento degli assegni per invalidità civile, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale del 23 giugno 2020. Il deputato Lollo Brigida fa cosa illustrare la sua interrogazione. Prego. Presidente, oggi lei è qui, grazie a Fratelli d'Italia, che ha richiamato la Presidenza, che ha accolto il nostro invito, al nostro regolamento che pretende che lei risponda in maniera trasparente, come oggi avviene, e con la stessa responsabilità che noi chiediamo oggi chiarimenti su quello che accade rispetto alla pensione di invalidità. Sono anni che Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni si battono per raddoppiare l'assegno di 285,66 euro che la Corte Costituzionale, con sentenza del 23 giugno, reputa insufficiente per garantire un livello di vita adeguato agli invalidi. Un pezzo del nostro popolo. Uno Stato che nello stesso tempo garantisce per i richiedenti asilo quattro volte tanto, più di mille euro, e che dice che per sopravvivere con il reddito di cittadinanza anche persone che delinquono e che non meriterebbero nemmeno il sussidio, 780 euro. Allora, Presidente, se la Corte Costituzionale dice che si viola la Costituzione, l'articolo 38 per la precisione, noi chiediamo qui e subito che si ponga rimedio, chiedendo perché non è stato ancora fatto, visto che sono anni che denunciamo questa criticità e oggi lo fa meglio di noi la Corte, e diciamo anche perché non lo inserisce nel decreto rilancio adesso, visto che deve affrontare le emergenze. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte ha facoltà di rispondere. Prego. In merito alla pronuncia della Corte Costituzionale, che è stata richiamata dagli onorevoli interroganti, mi preme sottolineare che la notizia di cui discorriamo e ragioniamo è stata diffusa all'ufficio stampa della Corte Costituzionale e ad oggi il testo della sentenza non è stato ancora depositato. Ma questa è una questione formale, perché lo stesso ufficio stampa ha peraltro reso noto che la Corte, cito letteralmente, ha stabilito che la propria pronuncia non avrà effetto retroattivo, dovrà applicarsi soltanto per il futuro a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla gazzetta ufficiale. Ma posso riferire, al di là degli aspetti formali, venendo alla sostanza che il Governo sarà senz'altro pronto a intervenire tempestivamente a livello legislativo per adeguare le pensioni di invalidità, ancora oggi ferme, ha una soglia senz'altro inaccettabile. È in esecuzione della citata pronuncia nel momento in cui la stessa poi spiegherà i propri effetti e quindi a seguito della sua pubblicazione della gazzetta ufficiale. Il Governo sta già lavorando a un testo che non potrà che essere affinato a seguito poi della pubblicazione di questa sentenza, che dovremo comunque leggere attentamente. Soltanto grazie però, vorrei ricordare, all'introduzione del reddito di cittadinanza sono stati fissati i livelli essenziali delle prestazioni finalizzate a garantire un livello minimo vitale di reddito, di contrasto quindi alla povertà, alla diseguaglianza, all'esclusione sociale. Vorrei invitare a considerare che il reddito di cittadinanza e adesso anche pensioni di cittadinanza intendono combattere la soglia minima di povertà. sono accessibili, ove si sia in possesso dei requisiti di residenza e soggiorno economici e patrimoniali previsti dalla norma, anche da parte dei soggetti che già beneficiano della pensione di cui si discute. Si evidenza inoltre che nel reddito, e se richiesto per accedere al reddito e alla pensione di cittadinanza, non vengono computati benefici sociali non sottoposti alla prova dei mezzi, tra cui rientra anche la pensione di inabilità civile. Pertanto, già in base alla normativa vigente, sussistono delle misure di sostegno al reddito che, ove ne ricorrano i presupposti, sono cumulabili con il beneficio oggetto della presente interrogazione. Faccio presente, infine, ma il vostro partito non ha accettato l'invito, ma lo recupereremo presto, che l'incremento delle pensioni di invalidità è una delle misure concrete presentate nel piano di rilancio del Governo, proprio a Villa Panfili, e che abbiamo discusso nel corso della consultazione nazionale sull'economia. A tale misura il Governo attribuisce grande rilevanza, al fine di rafforzare il nostro sistema di welfare, nell'interesse di tutti, soprattutto dei più deboli, dei più emarginati, in direzione di una maggiore equità e inclusività sociale. Facoltà di replicare il deputato Lollobrigida. Prego. Presidente, il nostro partito non ha ricevuto alcun invito da lei per parlare a Palazzo Chigi di quelle che possono essere soluzioni all'Italia. Lei ha mentito quando in conferenza stampa ha detto che l'avrebbe trasmesso. È restato in Villa Panfili a ragionare di tanto, ma oggi, come al solito, dopo tanti interventi, non ha dato risposte concrete praticamente su nulla, anche su questo tema. Di fronte a 500.000 invalidi civili che chiedono di avere una risposta immediata, lei rinvia, faremo, diremo, daremo, ma non da oggi, quando ha possibilità di farlo. Perché oggi noi discutiamo, in Commissione e bilancio, in queste ore, di 55 miliardi di euro che lei ha a disposizione, grazie a questo Parlamento, che all'unanimità le ha dato la possibilità di utilizzarlo. Avete costruito un decreto rilancio fatto di tante marchette, di viaggi a Dubai, di viaggi in business class, di consulenze, di assunzioni facili, di cose inutili che abbiamo puntualmente denunciato. Ci avete chiamato per diventare complici di questo processo, ci avete chiesto che vi serve. Ecco, io glielo dico adesso che cosa ci serve. A Fratelli d'Italia non serve niente. Fratelli d'Italia propone, oggi, in quest'Aula, al Ministro d'Inca, di fare un emendamento a firma di tutti i capigruppo, non solo di Fratelli d'Italia, perché noi vogliamo che sia un'iniziativa del Parlamento, per raggiungere la cifra di 100-140 milioni di euro che serviranno da domani a dare un assegno di invalidità degno e dignitoso che permetta di sopravvivere e di dar retta alla Corte Costituzionale, perché lei è troppo esperto d'avvocato per richiamare alla pubblicazione della sentenza, di fronte a bocche da sfamare a cittadini in difficoltà a cui dare risposte oggi, e lei lo può fare oggi, non domani. E allora, a Fratelli d'Italia non serve niente. Serve questo emendamento comune. Se lei non accetterà di sollecitare la sua maggioranza a firmare insieme a noi questo emendamento, lo presenteremo comunque in quest'Aula, a firma di Fratelli d'Italia, chiedendo al Parlamento di votare a favore, togliendo i soldi alle marchette, alle prebende, alle cose inutili che ci sono nel decreto di lancio e destinandole magari ai monopattini e destinandole all'assegno per sostenere i cittadini invalidi, civili, che non ce la fanno.